dedicato a tutti quelli che a roma stanno e mutande fa caldo a roma sembra di sì qui ieri erano lo ripeto 17 18 gradi oggi no oggi usuai è ritornata quanto pare la città più fredda di tutta l'argentina è pure il sotto del rio è ghiacciato cioè questo basta sotto ma guardate che spettacolo a parte che non si vede niente il ponte lo stiamo insieme dice la seggioia stiamo tornando indietro perché si affonda nella neve e quando metti il piede nella neve e taria fino al ginocchio le istruzioni di quello che del manuare di quello che vuole vivere dicono tornare indietro quasi casca quasi cade quindi terminiamo qui il video ma che bella neve questo è terra del fuego finalmente dopo una settimana anzi di più di una settimana che è stata un'altra settimana a tutti i nostri spettacoli e non sono